Valgesso Pneumatici, gli unici pneumatici invernali in provincia che ti faranno divertire. Se acquisti 4 pneumatici ti regaliamo 350 euro di momenti felici. Se la spesa supera gli 800 euro ti regaliamo 1500 euro per le tue vacanze nel mondo. Inoltre, Valgesso Pneumatici ti propone ricostruzione pneumatici, riparazione pneumatici tagliati o rovinati, riparazione cingoli in gomma, riparazioni pompe ciclone usurate dal passaggio della sabbia. Valgesso Pneumatici, sulla strada Cuneo Caraglio 200 metri dopo la rotonda di San Rocco di Bernezzo. L'autunno in Granda ha il sapore delle eccellenze. Dal 12 al 27 novembre torna la Fiera del Porro di Cervere. Dietro le quinte della 37esima edizione la sinergia è fra Proloco, Comune e Consorzio del Porro Cervere. Nel Palaporro, in piazza San Sebastiano, si alterneranno golosi appuntamenti enogastronomici ad eventi musicali. In paese, per 16 giorni, anche il mercato del porro invia 4 novembre. Non mancheranno i tradizionali gemellaggi enogastronomici tra il porro Cervere e prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Dal 12 al 27 novembre venite nella capitale della Buona Tavola, venite alla Fiera del Porro di Cervere. Ben tornati cari telespettatori all'appuntamento dell'informazione con il telegiornale di Telegrande. Apriamo il notiziario con la cronaca. Andiamo a Saluzzo, dove l'altra sera i carabinieri hanno arrestato un giovane pusher. Si aggirava alla fermata di un bus molto frequentata dai giovani studenti della città. Con sé aveva dosi di eroina, cocaina, ma anche crack. Si aggira con fare sospetto nei pressi di una fermata dell'autobus generalmente frequentata da studenti. I carabinieri lo notano, gli si avvicinano, lui tenta la fuga, ma i militari riescono a bloccarlo. Perquisendolo, gli trovano addosso ben 16 dosi termosaldate di varie sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina e crack. È successo a Saluzzo ad essere arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane extracomunitario originare del Gabon. A fermarlo i carabinieri del nucleo operativo supportati dal radiomobile della compagnia di Saluzzo. Tra le sostanze rinvenute appunto anche dose di crack, potente droga di origine chimica, ottenuta dalla commistione della cocaina con ammoniaca o bicarbonato di sodio, in grado di indurre elevata dipendenza e rabbita a sefazione psicologica e fisica. Il giovane viveva sul territorio nazionale senza irregolari permessi, alle spalle precedenti penali per spaccio di droga collezionati quando, per diversi anni, ha vissuto a Torino. L'arrestato su disposizione del pubblico magistrato è stato condotto nella casa circondaliare Morandi di Saluzzo, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida del suo arresto. I militari nel frattempo proseguono le indagini, vogliono verificare se l'uomo ha collegamenti ambientali con altri soggetti residenti o dimoranti a Saluzzo nei comuni limitrofi, siano essi clienti o piccoli spacciatori. Ancora la cronaca, ennesima spaccata al centro commerciale Cuneo 2 nel quartiere San Paolo di Cuneo. Si è verificata all'alba di domenica ed è l'undicesima in meno di un anno, la quarta, nell'ultimo mese e mezzo. Colpita questa volta l'edicola tabaccheria di Flavio Arnolfo, da 12 anni titolare del negozio, che aveva già subito due danneggiamenti, di cui uno grave nel 2013. Gli autori della spaccata non hanno rubato nulla, ma i commercianti descrivono la situazione come insostenibile, chiedono più controlli notturni e l'installazione di videocamere di sorveglianza ad oggi assenti. Proprio oggi pomeriggio, martedì 8 novembre, l'assessore comunale del comune di Cuneo ha effettuato un sopralluogo. Sempre per la cronaca, ladri anche a Mondovì, tre colpi su dieci, quelli messi a segno ai danni di alcune villette in frazione Sant'Anna. Magro il bottino, ma cresce la paura nella cittadina. Ladri in frazione Sant'Anna a Mondovì, quartiere residenziale della città del Belvedere, dove prevale la presenza di ville e palazzine di pregio. I ladri, tra sabato e domenica, sono penetrati in case con e senza allarmi di sorveglianza. Una decina di colpi fra tentativi portati a termine e falliti. Nel bottino, gioielli, denaro in contante, effetti personali di valore. Dove i colpi non sono riusciti, i danni riguardano i tentativi di scasso di porta e finestra. Prima ancora delle forze dell'ordine, la notizia è trappelata dalle vittime, che si sono sfogate sui social, prevalentemente Facebook, ma ovviamente sono scattate anche le denunce ufficiali alle forze dell'ordine, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Mondovì, filmati delle telecamere di videosorveglianza attive nella frazione. Gli ultimi episodi di furti hanno suscitato rabbia e preoccupazione nella nostra comunità, dicono dall'amministrazione comunale morregalese. Le forze dell'ordine stanno svolgendo un'intensa attività investigativa. Auspico che il sistema di videosorveglianza, di cui recentemente abbiamo dotato la città, possa essere utile all'indagine. Non mancherò di confrontarmi con il questore, perché, come già fatto in passato, possa essere intensificata la presenza delle forze dell'ordine sul territorio comunale per rendere l'attività di controllo e prevenzione la più capillare possibile. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Questa mattina il Tribunale di Cuneo ha visto sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio colposo Tatiana Fenoglio, responsabile della casa di riposo San Camillo di Centallo. Per la procura e lei a dover rispondere della morte di Elisabetta Cavallo, ospite della struttura, morta a 96 anni il 5 settembre 2012, precipitando con la carrozzina che usava per spostarsi giù da una rampa di scale. Il giudice questa mattina ha sentito vari testimoni, tra questi uno dei due figli della vittima, che ha detto di aver sempre vista aperta la porta antincendio che separava dalla rampa di scale dove appunto è caduta la donna. Testimonianza esattamente invece opposta a quella di una ossa dipendente della struttura. I familiari dell'anziana non si sono comunque costituiti parte civile nel processo perché sono stati risarciti. A giudizio il caso dell'agente municipale di Mondovì che lavorava in un diving center, nonostante la mutua. Nell'udienza di questa settimana i testimoni proposti dalla difesa. È in corso il processo sul caso del vigilo urbano di Mondovì sorpreso dalla Guardia di Finanza mentre lavorava in un diving center, nonostante la mutua. Nelle aule del Tribunale Cuneese, durante l'udienza, la deposizione del perito richiesta dalla difesa dell'ex Civic, sollevato immediatamente dall'incarico morregalese dopo le indagini condotte dalle fiamme gialle, è stato chiamato come consulente un ortopedico che sostiene la compatibilità del lavoro svolto nel piccolo porticciolo Ligure con la malattia per la quale aveva chiesto mutua dall'incarico in Polizia Municipale. Anche la figlia dell'ex agente ha deposto testimonianza dichiarando dai vanti ai giudici di aver utilizzato lei il badge del parcheggio del diving center Ligure nel periodo contestato dalle fiamme gialle. Obiettivo della difesa dimostrare che l'ex agente non aveva alcuna responsabilità. L'accusa contesta invece che mentre per il comune di Mondovì non poteva lavorare a causa di una grave lombalgia, questo malanno non gli aveva impedito di fare l'istruttore di sub per il diving center di Alassio. Il processo è stato rinviato ad aprile per l'esame dell'imputato a maggio. La sentenza. Restiamo in tema giustizia perché è definitivo l'accopamento dei tribunali minori di Cuneo ieri le ultime operazioni per il trasloco degli uffici da Saluzzo e Mondovì nella nuova sede del capologo della provincia Cuneo. Con qualche giorno di ritardo ma sostanzialmente puntuali si sono conclusi i lavori di trasloco dei tribunali di Saluzzo e Mondovì nella sede unica di Cuneo presso l'ex scuola Lattes. Le prime operazioni partirono in estate. Dallo scorso 14 ottobre le ultime dovevano concludersi il 31 ma i tempi sono slittati al 7 novembre. Prima il trasloco della Cancelleria volontaria giurisdizionale e dei giudici Salassa ed Elefante. Poi i trasferimenti della Cancelleria fallimenti ed esecuzioni immobiliari e mobiliari. Si è poi provveduto allo spostamento degli uffici di Cancelleria civile a Saluzzo mentre per i giudici civili di Saluzzo sono arrivati subito dopo i faldoni. Conclusi i trasferimenti dalle città del Marchesato si è passati al Tribunale di Mondovì. Prima la Cancelleria civile e i giudici civili. Poi la Cancelleria civile contenzioso e lavoro di Cuneo. Questo doveva essere l'ultimo atto del trasloco. Sulla carta la riorganizzazione geografica dei tribunali cunesi è partita il 2013 ma solamente in questi tre anni è diventata realtà durante i quali gli avvocati hanno dovuto fare salti mortali per adeguarsi alla nuova geografia della giustizia voluta per ridurre i costi del sistema. Ancora un aggiornamento di cronaca parliamo di lavoro nero perché i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cuneo proseguono i controlli e le verifiche per contrastare questo fenomeno. Questa volta l'attenzione dei militari si è rivolta nelle aziende agricole operanti in Langa e nel Saluzzese dove sono stati scoperti due lavoratori nero ed altri quattro irregolari. Nel Saluzzese è stato multato con una sanzione pecuniara da 6.000 euro un imprenditore agricolo del luogo che aveva alle dipendenze due lavoratori in nero su un totale di due dipendenti nei prassi di Alma invece i carabinieri hanno sanzionato con una multa da 6.000 euro un'imprenditrice agricola di un'azienda operante in Langa perché aveva le sue dipendenze ben quattro lavoratori irregolari. Ed è stato prorogato sempre in materia di lavoro l'accordo per la riduzione delle ore di lavoro al personale dell'impresa che si occupa delle pulizie nell'ex Fiat Ferroviaria per i sindacati l'unica soluzione per non ridurre il personale ovviamente siamo a Savigliano e stiamo parlando dell'attuale Alstom. Dovranno accontentarsi di lavorare meno e di conseguenza guadagnare meno le dipendenti della ditta incaricata delle pulizie all'ex Fiat Ferroviaria di Savigliano e la Manintalidea società che ha sede legale ad Ivrea ed occupa nello stabilimento saviglianese della multinazionale Alstom 11 persone. A loro è stato comunicato nei giorni scorsi la riduzione definitiva del 25% di orario e salario come d'accordi con le sigle sindacali già la scorsa estate. Scopo dell'intesa venire incontro ai tagli annunciati dall'Alstom senza far perdere il lavoro al personale. La trattativa venne avviata luglio quando furono annunciati i tagli l'accordo era l'unica soluzione hanno detto le sigle sindacali coinvolte nella trattativa pare impossibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali dal 1 agosto al 31 ottobre i sindacati avevano siglato un accordo ponte per mantenere i contratti individuali con una riduzione dell'orario del 25% lo stesso accordo è stato esteso al 31 gennaio 2017. La viabilità nell'ambito dei lavori di riqualificazione della frazione di Borgo San Giuseppe a Cuneo lunedì l'impresa incaricata realizzerà gli attraversamenti rialzati in asfalto su via Bisalta sia all'altezza di viale della parrocchia che dell'intersezione con via Savona e al tracciamento della relativa segnaletica orizzontale per questi motivi via Bisalta questo lunedì appunto sarà chiusa al traffico dalle 7 del mattino alle 18 del tardo pomeriggio interventi di asfaltatura stradale anche ad Alba sempre questo lunedì si segnalano quindi possibili disagi lungo il tratto dello svincolo sud-ovest compreso tra la rotonda della vigna e le rampe di accesso alla tangenziale in direzione Braccunio e Torino Asti parliamo ancora di viabilità perché con l'avvicinarci della stagione invernale la provincia inizia a rendere note le misure che metterà in campo in caso di nevicate l'ente lavora da questa primavera per razionalizzare e mettere un po' d'ordine al servizio di sgombero neve con la speranza non solo di offrire un servizio sempre migliore ma anche di risparmiare razionalizzare gli appalti per garantire un servizio di sgombero neve efficiente e si spera anche risparmiare è l'obiettivo della provincia a cui dalla scorsa primavera lavorano i tecnici prima difficoltà affrontata le diversità di gestione del servizio nelle differenti zone della Granda l'ente ha così elaborato una soluzione unica per appianare diversità di durata degli appalti regole e proroghe differenti quattro le novità sostanziali il pagamento sarà a misura ovvero in base ai chilometri puliti e alla quantità di neve rimossa il sale sarà fornito esclusivamente dal lente provinciale e non dalle singole ditte appaltatrici ogni mezzo utilizzato inoltre per coprire i 3.341 chilometri di strade a competenza provinciale saranno dotati di un rilevamento satellitare GPS gli appalti infine dureranno per tutti i tre anni ovvero fino alla stagione 2018-2019 grazie a queste decisioni la provincia stima di spendere 20,1 milioni per tre inverni IVA sale marino e GPS compresi una media di 6,7 milioni a stagione cifra non tanto diversa dagli anni precedenti sul lungo termine però anche in base a quanto nebicherà il risparmio potrà esserci a partire dalle aggiudicazioni sono state bandite 270 gare di cui 249 aggiudicate sulle quali ci potranno essere dei ribassi a 23 anni e di Boves il vincitore del titolo provinciale del campionato italiano Fresatori Ranstad si chiama Marco Pellegrino la prova è andata in scena Litis Mario del Pozzo di Cuneo Pellegrino si è imposto su altri otto studenti simulando la programmazione di una fresa controllo numerico con sistemi Siemens al termine della gara i ragazzi hanno potuto incontrare nuove aziende locali in cerca di personale Pellegrino competerà per il titolo nazionale insieme ai migliori fresatori di tutta Italia finale che si terrà il 17 di novembre al centro tecnologico applicativo di Piacenza ci spostiamo ora a Magliano Alpi dove a fine anno verrà consegnato il secondo tempio crematorio della provincia di Cuneo stanno per volgere al termine i lavori per la realizzazione del tempio crematorio di Magliano Alpi la consegna è prevista entro la fine dell'anno la proposta arrivò in comune per la prima volta a novembre 2013 lo scorso anno la posa della prima pietra e l'avvio dei cantieri in un'area di poco superiore ai 2000 metri quadri a fianco del cimitero di Magliano Sottano sorge il tempio una palazzina moderna con due forni crematori ed una sala del commiato per i familiari nel lavoro in fase di ultimazione era compreso come benefit a favore del comune ospite l'adeguamento dell'area parcheggio ed il relativo impianto di illuminazione tutto a led e a basso consumo energetico l'area è attrezzata ad impianto di videosorveglianza ad uso esclusivo delle forze dell'ordine e della polizia municipale sarà l'eclipsi SRL a gestire il tempio per i prossimi 25 anni un incontro per dare consigli soprattutto alla popolazione anziana su come difendersi dai reati predatori e come evitare di restare vittime di raggiri lo organizza venerdì 18 novembre il comandante della compagnia Carabinieri di Mondovì capitano Raffaello Cilento di intesa con l'amministrazione comunale l'incontro si terrà alle ore 16 nel palazzo municipale di Mondovì nella pagina dedicata agli eventi la fiera del porro di Cervere nei giorni scorsi la presentazione del programma della 37esima edizione che sarà inaugurata proprio questo sabato 12 novembre 37 anni di porro di Cervere un'eccellenza di questo territorio che rende famoso questo territorio ovviamente ogni anno bisogna cerebrarlo cosa cambia quest'anno ma quest'anno diciamo che dal punto di vista dei gemellaggi gastronomici ci sono alcune novità importanti come è stato detto in precedenza parliamo anche del gemellaggio con la birra baladempa del piozzo parliamo con alcune cose importanti poi soprattutto quest'anno abbiamo il ventegno dei produttori del porro del consorzio avremo due iniziative avremo un convegno col ministero delle politiche agricole l'associazione generale dell'agricoltura in più avremo la presentazione di un prodotto con un istituto di credito locale per quanto riguarda l'abbinamento di chi vuole iniziare questa attività di produzione con un finanziamento doc grazie al consorzio del produttore del porro Cervere noi creiamo diciamo una serie di iniziative per fare in modo di sempre avere sempre più avere attenzione da parte dei produttori alla qualità del prodotto noi puntiamo quest'anno il prodotto è buono è sano abbiamo una grande vendita già fin da ora già dal mese di ottobre però tutto questo ci fa sempre più credere che solo lavorando bene avremo dei risultati e anche la fiera auspicabile ma ne sono convinto che migliorerà ancora nelle presenze quindi bella questa cosa di fare del porro anche un'opportunità lavorativa in qualche maniera cioè cercare di coinvolgere nuovi giovani imprenditori ma nell'insegno dell'eccellenza si effettivamente ci impressionano questi dati a livello nazionale due milioni di giovani dai 15 ai 29 anni senza lavoro noi a Cerveri giovani senza lavoro non ce ne sono però vogliamo creare delle opportunità specifiche legate alla terra legate al territorio legate alla comunità che gli diano anche soprattutto soddisfazione economica solo così facendo diamo un futuro serio al nostro paese parlando di giovani il porro quest'anno si associa anche ad una bella iniziativa che è quella dell'orto scolastico come funziona? l'orto scolastico è stato creato ad hoc grazie al supporto di Slow Food dell'amministrazione comunale di tutta una serie di fattori insieme dato dal consorzio per fare in modo che ogni scuola abbia a disposizione il suo prodotto e che questo prodotto possa far sì che i bambini imparino a coltivarlo a lavorarlo a raccoglierlo e a venderlo in fiera ci sono tutti i passaggi di una piccola azienda fatti da questi bambini da questi alunni delle scuole e questo è molto importante perché poi noi faremo il percorso di degustazione e tutto questo ci permetterà di avere un buon risultato anche e soprattutto per le scuole un'ultima battuta sul porro a tavola ovviamente c'è stata un'anticipazione di un matrimonio fra la Zucca di Piozzo quando è stata inaugurata la fiera della Zucca Piozzo ovviamente non è l'unico grande amore del porro si lega bene con tutto si dalla bagna cauda al fagiolo abbiamo visto qua come dolce i marinotti erano le quacquare di Genola una serie di prodotti del nostro territorio come dicevano prima degli amministratori locali anche e soprattutto per valorizzare il prodotto di pianura perché se no ci perdiamo nell'eccellenza delle langhe nell'eccellenza delle montagne nelle caratteristiche la pianura viene lasciata a se stessa invece no produce produce bene produce sano produce di qualità e produce garantendo il consumatore dell'eccellenza e della salubrità del prodotto e come ogni anno la Carmes del Porro di Cervere proporà anche eventi di approfondimento sulle problematiche legate al comparto agricolo e alle eccellenze del territorio all'indomani dell'inaugurazione questa domenica 13 novembre alle 10 nel salone parrocchiale di piazza Umberto I si terrà il convegno sostenere le produzioni tipiche locali il contributo del programma allo sviluppo rurale della regione Piemonte e con quest'ultima notizia è tutto naturalmente vi ringrazio per averci seguito vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con Granda Mattina dalle 7 alle 8 e 30 buona serata L'autunno in Granda al sapore delle eccellenze dal 12 al 27 novembre torna la fiera del porro di Cervere dietro le quinte della 37esima edizione la sinergia è fra proloco comune e consorzio del porro Cervere nel palaporro in piazza San Sebastiano si alterneranno golosi appuntamenti enogastronomici ad eventi musicali in paese per 16 giorni anche il mercato del porro in via 4 novembre non mancheranno i tradizionali gemellaggi enogastronomici tra il porro Cervere e prodotti tipici provenienti da tutta Italia dal 12 al 27 novembre venite nella capitale della buona tavola venite alla fiera del porro di Cervere Valgesso pneumatici gli unici pneumatici invernali in provincia che ti faranno divertire se acquisti 4 pneumatici ti regaliamo 350 euro di momenti felici se la spesa supera gli 800 euro ti regaliamo 1500 euro per le tue vacanze nel mondo inoltre Valgesso pneumatici ti propone ricostruzione pneumatici riparazione pneumatici tagliati o rovinati riparazione cingoli in gomma riparazioni pompe ciclone usurate dal passaggio della sabbia Valgesso pneumatici sulla strada Cuneo Caraglio 200 metri dopo la rotonda di San Rocco di Bernezzo di San Rocco di San Rocco